Giorgio Bonieri ci ritroviamo dopo questa altra grande impresa, una dimostrazione di compattezza e di una squadra che sicuramente ha dei attributi. Sì, senza un bra di dubbio, andare a vincere al Cassino non è da tutti, anzi siamo stati praticamente gli unici, è una boccata di fiducia che dobbiamo prendere per affrontare il proseguo del campionato nel miglior modo possibile. Adesso come adesso proprio non ci possiamo, dopo questa bella impresa non ci possiamo fermare. Quindi ormai non c'è più scampo per voi. No, no, assolutamente. Vuol dire che ogni partita dobbiamo pensare come se incontrassimo dall'altra parte il Cassino, come se ci fosse il Cassino, come se ci fosse il Gaeta perché in queste partite in particolar modo abbiamo espresso il nostro potenziale di compattezza, di squadra, di unione. Quindi domani già l'Arpino dobbiamo pensare che davanti non avere l'Arpino ma dobbiamo pensare di avere il Cassino. Già ne hai parlato tanto credo di questa partita di Cassino. Fammi un assunto di quanto è successo. Per quanto riguarda il mio parere sapevamo di andare a affrontare una squadra molto forte, compatta, concreta, molto concreta, con una qualità enorme che secondo me anche il campo stesso penalizza. Penalizza anche loro. Sapevamo di andare incontro ad una partita maschia, agonisticamente parlando veramente molto molto valida. L'abbiamo preparata nello stesso identico modo. Penso che le squadre sul campo si sono affrontate in maniera molto onesta, molto sportivamente parlando. È veramente una partita molto valida e forse il risultato più giusto sarebbe stato, per quello visto in campo, senza ombra di dubbio il pareggio. Però come ho detto anche in altre interviste, queste sono partite che comunque vengono sbloccate spesso e volentieri da una giocata del singolo che magari si eleva sugli altri. E così è stata. Una giocata di scena solo ci ha portato al rigore che ci ha permesso di vincere la partita. Sicuramente. Ma comunque non è finita, credo, no? Nel senso che il Cassino sarà sempre lì. Ma scherziamo. Non ho mai a pensare, ma a abbassare la guardia. Credo che il Cassino sia una di quelle squadre veramente forti di tutte quelle che abbiamo incontrato durante questo campionato. Ma come siamo forti noi, come è forte il Zora, come è forte il Terracinale, sta venendo su in maniera veramente impressionante. Lo stesso Monte San Biagio che non si ferma praticamente mai. Quindi il campionato è bello, è il campionato avvincente. Credo che vincerà poi la squadra che va un pochettino più di equilibrio nei confronti degli altri. Però voi avete adesso in questo momento un vantaggio in più rispetto a voi e il Zora, rispetto al Cassino. Quindi il vantaggio è aumentato un pochino, no? Sì, vabbè, sono quattro punti che se andiamo poi ad analizzare e pensare che noi abbiamo già avuto la sosta per la partita di Preverno potrebbero diventare addirittura sette. Quindi pensando anche a domani il distacco potrebbe veramente aumentare in maniera vertiginosa. Però è vero anche che l'esperienza ci ha insegnato, almeno in questo campionato, che non si può mai abbassare la guarda perché il tempo di due partite è sbagliato e ti ritrovi praticamente tutti addosso di nuovo. Quindi mai a pensare che una squadra o l'altra possa essere morta perché poi è il momento che magari moriamo noi in campionato e ci ritroviamo a lottare tutti quanti insieme di nuovo. Mi ha accennato Arpino, ma mi devi anche parlare della prossima partita che ci sarà domenica, no? Sì, noi andiamo a affrontare domani l'Arpino, poi affronteniamo il Tecchino in casa, avremo di nuovo l'Arpino in casa prima di andare a Terracina. Diciamo che per quanto riguarda il nostro percorso in questo momento è sempre un pochettino più semplice rispetto al Sora, lo stesso Cassino che avranno degli scontri diretti in queste settimane. Però è anche vero che la nostra esperienza ci insegna che nel momento in cui abbiamo pensato, prima di scendere in campo contro il Pontini e di aver già vinto la partita, siamo usciti veramente malconci dalla partita stessa. Quindi l'importante è una squadra vera, una squadra matura e dobbiamo dimostrarla in queste tre giornate, che va in campo a prescindere da chi si trova davanti e cerca di fare il bottino viene. Vedo che comunque adesso in seguito si sta proprio esaltando, credo, no? Sì, abbiamo una tifoseria che ci segue, che ci sostiene, siamo contenti di aver smosso tutto quello che ci gira intorno in questo momento. È un piacere enorme vedere un Burman di tifosi arrivare a Cassino e di incitarci dal primo al novantesimo. Ci fa un enorme piacere, vi ringrazio pubblicamente per tutto quello che stanno facendo. La nostra forza è legata senza ombra di dubbio al tifo, è legata alla società, che non ci fa mancare praticamente niente, è puntuale. E questi ragazzi meravigliosi che veramente interpretano ogni partita come se fosse una finale di Champions League. E questi sono i risultati. D'accordo, mi sembra che abbiamo detto tutto. Io vi faccio in bocca al lupo sia per domani che per domenica. Grazie, credi. Grazie.